Taglio del nastro questa mattina del ponte mobile di Pagliari, un progetto costato 9 milioni di euro e due anni di lavoro, che nasce dalla collaborazione tra comune, provincia e autorità portuale e che si colloca all'interno di un più ampio disegno di sviluppo delle aree dedicate alla nautica e alla cantieristica. Presente il prefetto Giuseppe Forlani, dopo la benedizione impartita da Monsignor Medinelli, è toccato alla banda dipartimentale a attraversare per prima il ponte sulle note dell'Inno della Marina Militare. Il ponte costituisce l'ultimo atto della realizzazione della nuova Darsena di Pagliari, un bacino di 6.500 metri quadri a sostegno sia di attività artigianali legate alla nautica che di attività di microcantieristica. È sicuramente un sogno che si realizza, un'opportunità che aspettavamo da tanti tanti anni, con la speranza che questo possa portare un po' di lavoro in più in questo momento, che non è sicuramente dei più felici anche per il nostro comparto. E quindi migliori auguri a questo ponte e alla Darsena tutta, ma anche alla città nel suo complesso. Per il presidente dell'autorità portuale, un passo avanti per rilanciare la città e fare in modo che la Spezia diventi un polo turistico di primo livello, legandosi ancora di più al suo mare, soprattutto una volta realizzato il waterfront. Anche un po' di riqualificazione ulteriore che va avanti con questa Darsena, che io credo che potrà proseguire ulteriormente con la trasformazione di tutta l'area delle casermette, quindi come poi con la realizzazione della fascia di rispetto che cambierà, io credo, moltissimo e migliorerà moltissimo la situazione di questo quartiere. L'accampata mobile lunga 21 metri vedrà in futuro il graduale allontanamento dei container dalla fascia retroportuale. Dello stesso avviso non è però il candidato PDL alle elezioni regionali Luigi Morgillo, che considera l'inaugurazione del ponte l'ennesima manifestazione elettoralistica per nascondere l'inadempienza amministrativa degli ultimi anni.